Sono in compagnia di Nedim Bairami, vittoria, grande prestazione e anche un bel tuo gol. Sì, una grande partita di squadra, ho fatto il gol, sono molto contento di aiutare la squadra e dobbiamo continuare così. Non è facile continuare così perché l'Empoli ogni volta gioca sempre meglio, offre sempre qualcosa in più di fronte anche ad avversari che stanno benissimo. Sì, mancano ancora cinque partite, dobbiamo stare concentrati e dobbiamo continuare così con la squadra e non dobbiamo cambiare l'atteggiamento. Un atteggiamento che vi ha portato lontano, quello che avete fatto fin dall'inizio dell'anno, partita dopo partita, gara dopo gara, provando sempre a vincerla. Sì, questo è la più importante, non dobbiamo pensare troppo partita per la partita e dobbiamo stare così come sempre. In tutto questo c'è un grandissimo gruppo che esalta le qualità, tu e ognuno dei 26 ragazzi che siete. Sì, siamo una squadra top, nessuno fa questo che voglio, facciamo tutto insieme e dobbiamo continuare così. Tornando ad oggi, l'Empoli è stato bravo ad andare sul 2-0, poi è arrivato il gol di Brescia, subito il 3-1, 3-2, subito il 4-2. Anche questa è una prova importante di forza. Sì, anche se perdiamo gol dobbiamo continuare a giocare, abbiamo fatto subito la terza e questa è la nostra forza. Tre giorni si torna in campo in casa di una squadra che viene da tre vittorie consecutive, sarà difficile ma l'Empoli se ne andrà a giocare. Sì, dobbiamo preparare la partita bene contro l'Escoli e andiamo di là e facciamo una bella partita.